Nell'interesse del mondo agricolo ci auguriamo che l'obiettivo di spesa fissato al 31 dicembre prossimo per il programma di sviluppo rurale sia raggiunto, ma potremo esultare solo quando l'ultimo imprenditore agricolo avrà incassato i soldi di Bruxelles. E' l'auspicio del consigliere Paolo Castelluccio che allo stesso tempo si dice non convinto rispetto alle dichiarazioni del governo regionale che parla di una regione virtuosa per spesa comunitaria. Gli agricoltori, dice, continuano ad aspettare anni per ottenere quanto dovuto dai bandi del PSR. Infatti i pagamenti reali sono al 16,3% e soprattutto, sostiene l'esponente politico, spacciare per già spesi interventi solo in gran parte programmati e quindi impegnati sulla carta non mi pare proprio un bel esempio di virtuosismo. Castelluccio è critico anche rispetto all'operato della Ministra per il Sud Barbara Lezzi che afferma pur di attestare il ruolo di chi deve far sentire il fiato sul collo alle giunte regionali come la nostra, si accontenta di qualche tabella di dati, come quella fornita dalla Giunta che magari, scaricando ogni ritardo sulla Gea, fa finta che la ex-Arbea non si è mai esistita.